C'è solo l'Aiatico in provincia di Pisa tra i 30 comuni più ricchi d'Italia in base al reddito IRPEF pro capite secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze calcolati sulle dichiarazioni dei redditi 2021 quindi che riguardano l'anno fiscale 2020, quello della pandemia con un impatto decisivo sui redditi. Non è quindi una fotografia attuale ma rende l'idea di come sia distribuita la ricchezza nel nostro paese. L'Aiatico è l'unico comune toscano con 28.659,8 euro di reddito a persona. Il primo è Basilio in provincia di Milano con 44.683 euro. In generale è la Lombardia ad occupare praticamente l'intera classifica o comunque il nord-ovest con tre sole eccezioni, Gabice Mare in provincia di Pesaro e Urbino, Cugnoli, Pescara e appunto l'Aiatico. È, per chi non lo conosce, la cittadina in cui è nato Andrea Bocelli e dove il cantante ha voluto realizzare il famoso Teatro del Silenzio. Tornando alla classifica, se si considerano solo le 20 città più grandi d'Italia, in testa c'è Milano con 31.777 euro pro capite. Firenze è al sesto posto dopo Padova, Parma, Bologna e Roma con 23.666 euro pro capite. La zona più ricca, quella tra Piazza della Libertà e Campo di Marte, quella meno per Etola. Unica altra città toscana tra i comuni più popolosi è Prato, che chiude quasi la classifica con 19.077 euro. Prima di lei, molte città anche del sud. Quello che salta agli occhi, essendo dati riferiti al 2020, è comunque la generale perdita di reddito rispetto all'anno prima. Solo a Firenze sono stati dichiarati circa 400 milioni in meno rispetto al 2019, con un reddito medio che si è abbassato di 500 euro.